Vienlese, territorio straordinario e oggi siamo veramente nel cuore della città, tant'è che siamo in Via Italia, questa è la parte centrale, isola pedonale, il palazzo che vedete alle mie spalle è un palazzo dell'Ottocento, è proprio la parte centrale, vedete questo è Corso Via Italia, è un corso pieno di negozi, da questo lato siamo alla bancasella, quindi proprio nel primo tratto di Via Italia, l'edificio che stiamo proponendo è un edificio dell'Ottocento dove al secondo piano proponiamo un alloggio di 250 metri quadrati con 100 metri di terrazzo. Buongiorno a tutti, bene, come anticipato poco fa siamo in pieno centro nel cuore proprio del nostro bel biellese, siamo all'inizio di Via Italia, quindi zona pedonale, nella zona tra l'altro più bella di Via Italia perché è quella adiacente subito ai giardini, quello che vi proponiamo adesso è oggi, cioè è un alloggio quindi in pieno centro di 250 metri quadrati e il terrazzo che stiamo valutando in questo momento che misura 100 metri quadrati e di proprietà dell'unità. All'interno questi 250 metri sono composti da un bel disimpegno, una cucina, il soggiorno, quattro camere da letto e due bagni e ora andiamo a vederlo all'interno. I 250 metri quadrati di questo appartamento sono costituiti da questo bel ingresso che è un'estensione della zona giorno, da questo lato abbiamo il soggiorno dell'appartamento che essendo una casa ottocentesca è ricca di pavimenti bellissimi, qui siamo su un pavimento in ciliegio inchiodato a scacchi su magatelli, sono pavimenti da 3 centimetri, abbiamo le volte a botte, l'impianto di riscaldamento è semi indipendente e tutti i serramenti sono stati dotati di vetrata camera. Dal soggiorno, arrivando di nuovo in questa zona disimpegno, abbiamo da questo lato la cucina che è collegata direttamente ai 100 metri quadrati di terrazzo che abbiamo visto prima. Inoltre questa estensione della zona giorno, anche questa tramite delle porte finestre collega il terrazzo all'unità abitativa. Da questo lato tra l'altro le porte interne sono tutte porte originali che sono state laccate, da questo lato abbiamo la zona notte che va a disimpegnare il secondo bagno e le tre camere da letto che abbiamo nella zona notte. Ripeto, nell'appartamento potremo avere quattro camere da letto se vogliamo sostituire la sala da pranzo con un'eventuale altra camera. con un'eventuale altra camera. Bene, quindi, ricapitolando un po', facendo il punto della situazione, allora questo alloggio si trova in pieno centro nel cuore di Biella, siamo in l'inizio di Vitaglia, quindi zona pedonale, traffico inesistente. Abbiamo detto che qua siamo su un alloggio che dispone di 250 metri quadrati, disposti in quattro camere da letto, due bagni, questo bella androne e la cucina, esternamente 100 metri di terrazzo che sono i primi di cui vi abbiamo parlato e fatto vedere. Ebbene, questa proprietà la proponiamo per 336 mila euro, non dispone di un'autorimessa, ma a 10 metri dalla proprietà è possibile acquistarne una. Grazie di tutto, signori, alla prossima puntata delle nostre presentazioni e noi di Abita, sempre in movimento! Grazie a tutti!